Un'unica grande organizzazione che si suddivideva in quattro sottogruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti tra cui marijuana, hashish e cocaina nei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina e Comiso. Sono 18 in tutto le misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Flipper ai danni di altrettanti soggetti in prevalenza ragusani, albanesi e tunisini accusati di traffico e spaccio di droga. L'indagine prende il via da una serie di arresti in flagranza di reato compiuti nel centro città, ma non solo. A contribuire all'operazione anche le numerose richieste d'aiuto dei genitori preoccupati dell'incremento di smercio dei stupefacenti nelle villette e nelle piazzette pubbliche di Ragusa. Cruciale inoltre il ruolo dei pregiudicati Daniele Vasquez ed Enrico Scenna arrestati poiché trovati in possesso di non indifferenti quantitativi di droga e marijuana pronte ad essere piazzate sul mercato. La lente di ingrandimento dei militari si è quindi soffermata anche su gruppi minori composti da giovanissimi spacciatori, tra cui i due fratelli albanesi Elvis e Alandro Maloku strettamente collegati ad Alessandro Avola. In seguito, attenzionando i contatti degli spacciatori ragusani, si è risaliti ad Ayman Sokmani, legato ad altri soggetti del ragusano che approvvigionavano di hashish e marijuana ai quartieri del posto.